Salve ragazzi, ritorniamo su Metro 2033 Redax Eriamo arrivati qui, siamo con Khan, occhiali queste trappole qui Ok, siamo ancora nella stazione, salve Mica tanto Qui il destino è già arrivato, dobbiamo dare una mano Trova ciò che resta della squadra di guastatori, avevano una bomba Portala nella galleria di sinistra il più lontano possibile, poi scappa L'esplosione sarà devastante Quanto all'incrocio è già stato sepolto una volta Ma a quanto pare i nosalis hanno scavato un passaggio nel materiale franato C'era un portello stagno poco lontano, deve essere rimasto aperto Cerca di chiuderlo, di abbatterlo Ora estero qui, con i sopravvissuti Cerca di attirare i mostri nella nostra direzione, se sono troppi Ah, quindi devo andare da solo, bene, grazie per l'aiuto Khan, eh, molto Direi che sei molto di compagnia Allora, vediamo di passaggi Caspita, succede Si può aprire questa, no? Questa neanche Sap Si sparano Io mi faccio gli affari miei, eh E muori Non so dove sto andando Anche se Di salvo salice di qua c'è una trappola lì Oh bolla Aiuto, aiuto A cagare Taggi di cristallo Taggiamo l'arma carica Allora, dobbiamo andare di qua, dice Vediamo qui, c'è un tipo C'è anche dei proietti lì Questa si può aprire, no? Perché sento passi ovunque? Salve Mamma mia Sento i passi ovunque Aia E muori? Allora, direi che qui non c'è nulla Quindi direi di andare avanti Quindi Qui c'è parecchia gente Dobbiamo salire Oh cassio Muori Muori Il mio fedelissimo Pumba No, devo andare sempre di qua Allora Tengo il documento Devo scendere? Non volevo Non si può scendere E quindi? Ah, devo piazzare Via Perfect Aia La bambolina Chi è? Dove? Oh Oh mamma Conviene dare l'arma sempre carica Eh Non posso passare? Di qua Oh madonna Oh 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 Oh, è duro Dai a, dai a Allora, andiamo di qua Vabbè Galleria Ho paura E arriva un altro Mamma mia In pieno viso Faccia Viso faccia Aia Porca Attio Porca Seria Mamma mia Mamma mia Madonna mia Madonna mia Madonna mia Mamma 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 mia Dovrai attraversare le stazioni dei rossi E degli imperialisti Vogliamoci Canne, non è che mi puoi dare qualche munizione, vero? L'armeria è una stazione indipendente Quindi non dovresti avere problemi Ma i rossi sono un'altra cosa Stanno costruendo una nuova società Con tutti i bonus di uno stato di polizia Come i delatori All'armeria Cerchi una mia Conoscenza Andrew Il fabbro Vagli il mio nome Ti darà una mano Eh, ok Per un attimo è diventato tutto bianco Canne È sparito Aspetta Canne Posso andare dall'altra parte Per vedere cosa c'è Ah, stesso Ciao Canne Che fa? Un tempio dedicato alla speranza Anche in questi tempi copi Non possiamo rinunciare a ciò che c'era indomani Eh Ah Ok Scendo? Entra Ci vediamo Canne Ricordati Dipende tutto da te E solo da te Alla prossima Arrivederci Arrivederci Se c'è ancora un dio nel nostro mondo Quel giorno era come Andrew il fabbro Un amico di Canne Mi tirò fuori dai guai Mi avrebbe portato fuori dalla stazione Come questa Ok Vedo la luce Non è vero È una scintilla Sembrerebbe tranquillo Io avrei bisogno di munizioni Però gentilmente Cosa ha fatto? Scendiamo la luce Perché non si vede niente Sempre dentro i comunicoli Che non si Ma in stile Batman Ah beh Posso scendere? Scendo Ma vuole Si apre sta porta? No Ho paura Da solo In una galleria Alza Chi va là? Non ti muovere Ehi Rilassati È un umano Spegni la luce Beh Sembri umano È quello che conta Entra pure Questa è una stazione libera Meno male Anche non è che potresti cosere Gentilmente No Buongiorno Buonasera Alve Vengo in pace Vabbè Attento ragazzo La nostra stazione Libera È sorvegliata dai russi Il gioco più praticato in città Si chiama paranoia Quindi mantieni un profilo basso Capito? Va bene Grazie del consiglio Eeeh Dove si va? Di qua? No Scusi Di là Attenzione Attenzione Ispezione documenti in corso All'armeria Rimanete nelle vostre residenze Registrate E collaborate con le forze Dell'ordine Vigilate compagni Il nemico non dorme mai Un'armeria Qualcosa Delle munizioni Salve Mamma mia che gentilezza Salve Salve Faccia il muro Ispezione Eeeh Tieni giù le mani Guarda che Il capo ha da fare Torna più tardi Va bene Mi scusi Salve Salve Dottore Mi daresti una controllata La prostata Già che ci sei Quando faccio la pipì Il getto brilla Saranno le radiazioni Quando faccio la pipì Il getto brilla Prendi a calci Prendi a calci Proprio la parte Che più ti attrae Vabbè Di qua non posso Non vi danno abbastanza Da mangiare Ssh Silenzio E tu che sei Il fidanzato del comico Stendi le mani Sei in arresto Ma che ha fatto Va bene Va bene Piantala Verrò senza fare resistenza Fermo Sparo Corri Merda Io lo ammazzo Forza Prendiamoli Forza Seguimi Via Via Aia Sparano Qui Chi sei tu Corri Artio Corri Non ci ho capito Niente Un attimo Un attimo Non correva Quindi lo ha presso di vista Ancora Prostata Ancora Ci riproviamo Ci riproviamo Ok Andiamo Per Corri Corri Merda Io lo ammazzo Forza Prendiamoli Forza Seguimi Via Via Corri 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 Ma perché Non corre Certe volte A sinistra A sinistra Ma dove Dov'è Prostata Già che ci sei Quando faccio La pipì Il centro Brilla Saranno le radiazioni Pazzo Silenzio E tu che sei Il fidanzato Del comico Stendi le mani Sei in arresto Va bene Va bene Pianca Però senza fare resistenza Fermo Sparo Corri Merda Io lo ammazzo Forza Prendiamoli Forza Seguimi Fai attenzione Idiota Accidenti a te Qui Sì Giù Giù Eh Dillo che dovevo andare lì qua La Fermati Teppista La stazione armeria Produceva la maggior parte Delle armi Per la metropolitana Si trovava sotto Una vecchia fabbrica Di armi E dopo la caduta Delle bombe nucleari Molti degli operai Si sistemarono Qui sotto Stavo cercando Andrew Il fabbro Ma fu lui A chiamare me Passa per un maledetto Campo di battaglia La linea del fronte Tra l'impero E i russi Serve un travestimento Prendi questo uniforme In fila della sopra i vestiti I russi stanno arruolando volontari Per attaccare le fortificazioni Degli imperialisti Stanno per mandare Un treno pieno di reclute In prima linea Tu salirai su quel treno Senza farti notare Non sarà un viaggio Di prima classe Ma non dovrai pagare con sangue Non appena la tradotta Avrà superato i posti di blocco Sarai solo Come sempre Va bene I want to believe Metro 2035 Va bene raga Direi che per questo episodio Possiamo fermarci qui Alla prossima Ciao ciao Alla prossima